Il Chiaro di Luna Il Principe di Ombul Natalia, perché così silenziosa? Cosa c'è che non va? Fa paura, caro zio. Avrò la fortuna di crescere nel cuore del vostro cuore. Proprio nel cuore del mio cuore, Natalia. Il Lettore è caduto! Chiunque comandasse la cavalleria nel giorno della battaglia e prima che io ne avesse dato l'ordine abbia attaccato di propria iniziativa il nemico, successe a saltare i ponti costui e reo di morte, toglietegli la spada e agli arresti. Adesso che ti guardo negli occhi capisco che non sarai mai di nessun altro. Che cosa posso fare per consolarti? Chiedo di dire allo zio quella parola che ti possa salvare. Posso io annullare la sentenza di un tribunale? Chiedo di dire allo zio quella parola che ti possa salvare.